Buonasera, benvenuti a questo quinto webinar dedicato alla modellazione 3D. Oggi in particolare vedremo come adattare i nostri modelli alla stampa 3D. Quindi ripercorreremo velocemente alcuni comandi o alcuni accorgimenti da tenere presenti quando si modella e quindi rivedremo velocemente anche i programmi di modellazione. Ma in particolare ci soffermeremo sui software di slicing, quindi sui software che si utilizzano per trasformare il modello 3D in un linguaggio che la macchina poi possa utilizzare e quindi in questo modo possa ricreare l'oggetto che io ho disegnato. Benissimo, allora esco dalla cam e iniziamo subito. Benissimo, allora per iniziare vi faccio, vi introduco subito questo nuovo tipo di software che come vi accennavo si chiamano software di slicing dove in effetti gli oggetti che noi disegniamo e noi modelliamo vengono affettati, quindi vengono suddivisi in tantissimi piani che sono poi quelli che le stampanti 3D andranno a riprodurre. Esistono tantissimi di questi software di slicing, io ne utilizzo principalmente uno che si chiama Simplify 3D, però altri molto molto famosi sono Slicer piuttosto che Cura che probabilmente utilizzerete maggiormente. Allora, diciamo che non mi interessa farvi vedere nello specifico il programma, quello che vi farò vedere quindi tutte le funzioni che vi spiegherò oggi le ritrovate in tutti e tre questi che sono diciamo i principali software di slicing. Detto questo, sì, appunto saranno funzioni molto molto basilari, quindi che magari l'unica l'unica mezza difficoltà può essere quella di andare a ritrovarla all'interno di un altro software. come in tutte le cose, naturalmente uno tende a utilizzare maggiormente i software con cui ha più dimestichezza magari velocemente, poi vi faccio vedere i comandi principali anche negli altri due software per chiarezza. Ok, comincio a fare una brevissima descrizione dell'area di lavoro giusto per darvi qualche indicazione in più. Naturalmente questa che vedete in grigio è l'area di lavoro della mia stampante. Consideriamo sempre, idealmente, una stampante più o meno 20x20 che sono i modelli un po' più diffusi. Bene, in queste due finestre che abbiamo qui sulla sinistra avremo la possibilità di importare i modelli 3D e di variare le impostazioni della mia stampa. Naturalmente le impostazioni della stampa sono tantissime, quindi non vi annoierò, ma non andrò troppo nello specifico. Vi farò vedere quelle che sono le accortezze che possono poi, alla fine, migliorare la qualità dell'oggetto che state riproducendo. Ma iniziamo subito in una maniera abbastanza pratica. Quindi importiamo un oggetto e cominciamo a vedere quelle che sono le prime operazioni da fare. Allora, per importare un oggetto vado su Import e qui ho una serie di modelli che ho preparato, quindi scelgo il primo. Eccolo qui, lo vedete in giallo, questa specie di L rigirata. Prima domanda, come mai i modelli vengono posizionati nel piano di stampa in questo modo e non, magari, ottimizzati automaticamente? I modelli vengono importati così perché questo è il modo in cui sono stati disegnati. Quindi io ho disegnato questo oggetto così. Bene. Chiaramente nulla mi vieta di ruotarlo. Questo non è sicuramente il miglior modo per stampare questo oggetto. Come mai non è il miglior modo? Ve lo faccio vedere subito. Tutti i software di slicing hanno all'interno una macchina virtuale. Quindi un simulatore, chiamiamolo, che vi fa vedere in anteprima quello che sarà il percorso della vostra stampante. Quindi eventuali problemi ve li potete accorgere con un minimo di occhio, con un minimo di esperienza, già prima di andare a stampare. Quindi se io volessi stampare questo oggetto così come l'ho disegnato... Ecco, scusate, devo subito levare una cosa. Ok. Eccolo qui. La macchina me lo fa. Naturalmente ricordatevi sempre che la macchina da questo punto di vista non... Non vi risolve i problemi. Ecco, mettiamola così. La macchina fa esattamente quello che voi gli dite. Quindi se io voglio stampare il mio oggetto così come è stato disegnato, la macchina lo fa. Quindi andiamo a vedere cosa succede. Questa è una simulazione, vedete, accelerata via via di quello che succede. Per cui io avrò tutta una prima parte del modello dove non mi accorgo di eventuali errori. Perché la stampa viene fatta in maniera lineare. Ok. Viene fatta soprattutto all'interno del volume dell'oggetto stesso. Dov'è il problema? Il problema è nel momento in cui finisco la parte alta, eccola qua, e inizia la L. Penso che tutti sappiate, ma se non lo sapete ve lo ridico velocemente, che le stampanti 3D, ora in particolare stiamo parlando delle stampanti a filamento naturalmente, lavorano a temperature abbastanza elevate. Di solito tra i 200 e i 220, i 230 gradi. Bene, quindi cosa succede? Il filo quando esce è quasi liquido. Quindi questo vuol dire che quando si va a costruire un oggetto, tutte le parti a sbalzo, tutte le parti che non hanno una superficie su cui appoggiarsi, presentano dei problemi. E questo è il problema numero uno. Ok? Ve lo faccio, ritorno indietro di un paio di layer per capire bene. Ok? Come vedete la mia stampante non avrà nessun problema a costruire questa colonna. Perché questa colonna viene costruita in maniera continua. Però, al layer successivo, eccolo qua. La parte che appoggia sulla colonna, ve la zoom, scusatemi, ve la zoom leggermente, in realtà è piccolissima. E tutto il resto del mio oggetto è completamente costruito sul vuoto. Che vuol dire questo? Vuol dire che se io qui vedo un piano perfettamente rettilineo, nella realtà questo non succederà. Non succederà mai. Ma, e quello che succederà è che l'estrusore della mia stampante si muoverà, si muoverà in maniera retta, si muoverà alla velocità che ho detto io, ma il filo, essendo molto molto morbido, tenderà a fare più o meno questo profilo qua. Quindi tenderà a colare, semplicemente. E questo non succederà solamente nel primo layer, ma succederà per una buona parte dei layer successivi. Facendo sì che il vostro oggetto, alla fine, risulti molto poco aderente a quello che avete disegnato. E soprattutto perderà anche eventuali caratteristiche meccaniche o tecniche che voi avevate dato al disegno. Bene, quindi immaginatevi che quello che vedo qui, in realtà, per una buona metà, probabilmente, diventeranno dei fili che cascano, ok, dalla parte inferiore. Poi dopo un po' magari riesce a chiudere, però ormai l'oggetto è rovinato. Qual è, diciamo, il primo accorgimento che dobbiamo avere quando importiamo un oggetto? Il primo accorgimento da avere quando un oggetto viene importato è quello di studiarne a fondo la geometria, ok? Proprio per evitare che parti a sbalzo, parti che possano dare dei problemi, siano posizionate nella maniera corretta. Bene? Quindi, in questo caso, come avete visto, tutta questa parte qua è un problema per il mio oggetto. Quindi vuol dire che, se io voglio stamparlo nel migliore dei modi, devo andare a ruotarlo. Devo andare a ruotarlo e quindi devo andare a variare la sua posizione. La cosa più semplice da fare? Probabilmente la cosa più semplice da fare è ruotarlo di 180 gradi. Su X Eccolo qui Cosa ho fatto? Niente, perché ho semplicemente ribaltato il mio oggetto in modo che la parte che prima era un problema diventa adesso la base d'appoggio per tutta la mia stampa. Quindi, andiamo a fare esattamente quello che abbiamo visto prima. Andiamo a fare una simulazione di stampa. Come vedete, la stampa inizia proprio dalla parte allungata e poi va a costruire sopra di questa la parte colonnare. In questo modo io non ho mai nessuna parte che esce al di fuori del volume dell'oggetto. E sono relativamente sicuro che, a meno di problemi che non derivano dalla stampa ma derivano dalla stampante, il mio oggetto sarà portato al termine. Eccolo qua. Questo sono sicurissimo che quello che vedo qui lo potrò ritrovare in stampa. In alternativa, potevo fare anche un'altra cosa. Potevo andare a appoggiare tutto l'oggetto. Quindi, diciamo, andare a piegarlo a 90 gradi. Eccolo qui. Questa era sicuramente un'altra strada. Quindi, il risultato cambia poco. Cambia poco in realtà relativamente perché, cambiando l'orientamento, cambiano i punti di giunzione. Allora, in questo modo, vedete, il mio oggetto viene costruito tutto nella stessa maniera. Bene. E i punti, diciamo, di debolezza sono quelli lungo la superficie del layer. Quindi, questa giunzione, questo angolo, in realtà sarà molto, molto resistente perché è costruito in maniera continua. Se, torno un attimo indietro, disegno, scusatemi, costruisco il mio oggetto in questo modo. La costruzione avverrà lo stesso. Dov'è il problema? È che qui, vedete bene, si vede bene proprio da anche il cambio di colore perché qui ci sarà un cambio di velocità. Però, questo layer qui sarà un pochino più debole rispetto al resto della costruzione. Quindi, se questa giuntura, se questa unione mi deve garantire una certa resistenza, o ha una trazione, o comunque deve sopportare un certo sforzo, stampando l'oggetto in questo modo è più facile che si rompa rispetto a stamparlo completamente appoggiato sul piano. Quindi, questo è un altro aspetto che va sempre tenuto a mente, che va sempre tenuto ben presente quando si pensa di stampare in 3D. Cioè, a cosa serve il mio oggetto? Non è detto che tutti gli oggetti che stampiamo siano semplicemente oggetti didattici oppure oggetti che non abbiano una funzione vera e propria. Anche nella didattica molti oggetti possono avere incastri, possono avere giunzioni, che quindi è importante stampare nella maniera migliore possibile, proprio per evitare che si rompano, che non funzionino a dovere. Ora, è vero che il bello, la fortuna della stampa 3D è che tutti questi inconvenienti si aggiustano, si riparano molto molto velocemente, semplicemente ristampando l'oggetto. Però, una volta che ci siamo, se lo stampiamo bene alla prima, è sicuramente preferibile. Un altro problema, torno un attimo indietro, eccolo qua, molto molto comune alle stampanti è quello dell'adesione dei pezzi. Allora, cosa succede? Non tutte le stampanti hanno il piano di stampa riscaldato, anzi, esistono tantissimi modelli che hanno il piano di stampa freddo. Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire che, non che non funzionino, per carità, però, le stampanti a piacere, il piano freddo, hanno qualche difficoltà in più a tenere, o comunque a far aderire bene i pezzi al piano di stampa. Perché? Perché tutti i tipi di plastica, raffreddandosi, tendono a ritirare quello che viene chiamato effetto warping. Quindi, ad arricciarsi un po', mettiamo così. Naturalmente, ogni plastica ha il suo tasso di ritiro. In questo, il PLA è quello che viene utilizzato di più, sia perché è una bioplastica e non rilascia fumi nocivi, e quindi questo, soprattutto in ambiente scolastico, è importantissimo. Ma anche, tra le sue caratteristiche, ha quella di avere un bassissimo indice di ritrazione e quindi di essere molto facile da stampare. Questo è vero in assoluto, però ci sono casi specifici dove anche il PLA vi può dare qualche problema. In che senso? Il caso classico è quando io stampo un oggetto molto molto grande, cioè vado a stampare più o meno al limite del mio piano di stampa. Rimettiamo il mio oggetto, ok, così a 90. Bene, quindi io qui vado a occupare praticamente tutto il mio piano di stampa da angolo a angolo una metà, è vero l'altra metà è vuota, però già così è un oggetto di dimensioni abbastanza grandi. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che se il mio piano non è regolato perfettamente, potrebbero esserci dei problemi tra questa estremità dell'oggetto e l'altra, ok? Perché? Perché magari una delle due estremità è leggermente più alta dell'altra e quindi alla lunga via via che la stampa procede, c'è il rischio che questa estremità tenda faccio un esempio, è questa, che una delle due estremità, ok, tenda a staccarsi e quindi anche qui andare a modificare il profilo del mio oggetto rendendolo poi inutile e quindi da stampare nuovamente. Qui come si può ovviare? Questa è una di quelle cose che difficilmente si risolve in modellazione, cioè il mio modello è quello. Questo è uno di quei casi in cui i software di slicing, quindi i software che trasformano gli oggetti, i modelli 3D in coordinate numeriche per la stampante, mi viene in aiuto. Perché? Perché mi permette di stampare al di sotto del mio oggetto un piano d'adesione, è una specie di tappeto con lo stesso materiale che migliora l'adesione dell'oggetto e quindi riduce questo problema. Ora vi ripeto, questo è una cosa che non serve sempre, è un accorgimento che serve principalmente a chi ha le stampanti a piatto freddo. Chi ha la stampante a piatto caldo basta alzare la temperatura del piatto intorno ai 40-50 gradi e questo problema viene praticamente azzerato. Però, chi non ha questa possibilità sulla sua stampante, esiste un comando che si chiama raft, che ora vi faccio vedere, che, eccolo qua, vedete, costruisce al di sotto del vostro oggetto una base, una base in più, eccolo qua, ok, in più strati, sopra la quale poi verrà realizzato l'oggetto vero e proprio. Come tutte le cose, ha dei lati positivi e ha dei lati negativi. Il lato positivo è che vi riduce notevolmente la possibilità che il vostro oggetto si stacchi. Il lato negativo è che poi va rimosso dall'oggetto e quindi magari può essere un'operazione un pochino più noiosa. Però i software solitamente sono ottimizzati abbastanza bene per far sì che queste strutture vengano rimosse facilmente. Il raft può far comodo in due situazioni. Questa è una, quando la superficie d'appoggio è molto molto alta, ma scusatemi, è molto molto grande, il piatto è freddo e non siamo sicurissimi della calibrazione al decimo di millimetro. L'altro è il caso opposto, cioè quando, rimettiamo tutto a zero, ok, il mio punto di appoggio rispetto all'oggetto sia molto piccolo, come in questo caso qua. Bene, qui abbiamo un rettangolo molto molto piccolo di appoggio e poi l'oggetto si sviluppa anche al di fuori. Anche in questo caso può essere comodo perché migliora l'ancoraggio al piatto, quindi evita in qualche modo che alla lunga la stampante, che comunque produce sempre delle vibrazioni, piano piano tenda a far staccare la base dell'oggetto. Bene, quindi dopo un po' vi trovate il vostro oggetto che naviga in mezzo al piatto, ok? Quello è un rischio doppio. Uno perché naturalmente dovete buttarvi alla stampa. Due rischiate di far qualche danno alla stampante, alla stampante proprio, quindi poi di dover andare anche a, sicuramente a ripulirla dalla plastica, però nei casi peggiori anche a dover sostituire qualche pezzo magari. Ultima cosa che vi faccio vedere su questo oggetto è la possibilità di stampare quello che disegno esattamente come l'ho disegnato. Ora, questo è un oggetto semplice, però a volte, o diciamo in verità molte volte, non c'è la possibilità di variare così facilmente la posizione. Bene, quindi molte volte ci sono degli oggetti che vanno stampati così come sono stati fatti. I software in questo ci vengono in aiuto. In che modo? Andando a creare delle strutture che vadano a funzionare come supporti, ok, vedete, questi che ho appena aggiunto, che funzionino da base per tutte quelle parti a sbalzo. Bene, quindi questo cosa comporta? In molti casi è l'unica soluzione per stampare un oggetto, ok? Questo è un po' il grande limite delle stampanti a filamento, che hanno bisogno sempre di piani d'appoggio. Quindi, laddove non si riescono ad avere con la modellazione, ora questa è una L semplicissima, però voi immaginatevi un oggetto o la riproduzione di una statua, per esempio, e lì è impossibile avere tutti i punti che appoggino uno sull'altro. Lì sicuramente serviranno i supporti per arrivare in fondo alla stampa. Quindi i supporti cosa fanno? Ve lo faccio rivedere, eccolo qua. Semplicemente vengono costruiti di pari passo al mio oggetto, in modo che una volta arrivati al punto critico, al punto che dà problemi, questo possa semplicemente adagiarsi sopra questa superficie in più che viene costruita. Naturalmente, in molti casi è un aiuto, ma non risolve tutti i problemi, perché la superficie che si appoggia sarà sempre un po' più sporca, un po' più brutta rispetto alle altre. Questo molte volte è un compromesso più che accettabile, bene, perché se è l'unico modo per ottenere l'oggetto, ebbene, venga, è questo. Di contro cosa vi comporta? Vi comporta un maggior utilizzo di materiale, tutta questa parte qui, tutti i supporti che voi andate a creare, è materiale che si spreca, bene. Quindi, niente, non è che c'è altri motivi, non è che c'è altre soluzioni, questo è materiale che una volta stampato, va rimosso e buttato via. Altra criticità è quella del tempo, cioè la stessa stampa fatta con i supporti o fatta senza ha durate molto diverse, ovviamente, cioè tutto il costruire questa parte qua vi porta via ore, ok? Non minuti, ore. Questo vuol dire che il mio oggetto stampato in questo modo, lo potete vedere qui in alto, durerà circa 4 ore. Bene, se faccio la prova andando a rimuoverli, lo stesso oggetto avrebbe stampato... scusate... ok, lo stesso oggetto avrebbe stampato in circa 1 ora e 50. Mi direte voi, sì, è vero, però in questo modo non sarebbe venuto niente. giusto, ma come vi ho fatto vedere, se io ruoto il mio oggetto a 180 gradi, ok, la forma, la geometria è la stessa, quindi il tempo, eccolo qua, rimane esattamente il solito. Quindi in 1 ora e 50 io ho costruito il mio oggetto. Forse, facciamo una prova, vediamo nel momento in cui io stampo il mio oggetto steso, il tempo è ancora meno, ok? 1 oretta. Quindi anche questi sono tutti piccoli accorgimenti che fa comodo controllare prima di andare in stampa. Non tutti i software purtroppo vi danno la stima del tempo. Cura lo fa sicuramente, Simplify lo fa sicuramente, Slicer se non lo dovrebbe fare, a meno che ultimamente non lo abbiano implementato. Una cosa sul tempo, prendetelo sempre un po' con le molle, cioè è un'indicazione del tempo, poi non sarà mai preciso al minuto, ok? Questo ci può mettere più facilmente 1 ora e 1 quarto rispetto a 59 minuti, e dipende un po' anche da macchina a macchina, però metteteci sempre un margine d'errore del 10, 15, 20%, per sicurezza. Poi, se ci mette un po' meno, meglio. In generale, ricordatevi sempre che la stampa 3D richiede tanto tempo, cioè è una tecnologia relativamente veloce da un certo punto di vista, perché voi passate in poche ore dal disegno ad avere l'oggetto in mano. Però la realizzazione difficilmente chiede meno di un'ora, un'ora e mezzo per un oggetto di medie dimensioni, a meno che uno non stampi proprio il portachiavi piccolino che in un quarto d'ora, 20 minuti, riesce a stampare. Bene, allora, ma facciamo un attimo un passo indietro. Torniamo un attimo alla modellazione dopo queste prime indicazioni. Quindi apriamo Fusion e andiamo a ricostruire il nostro oggetto, ok? Quello abbiamo utilizzato finora, più o meno. Allora, se vi ricordate, avete visto, ho preso un nuovo sketch, ho scelto un piano su cui lavorare, e ora con la linea, con lo strumento linea, vado a costruirmi più o meno, ok, un oggetto simile a quello che vi ho fatto vedere. Lo sto disegnando in pianta. Eccolo qua. Quindi, velocemente, questo è l'oggetto, è più o meno il profilo dell'oggetto che abbiamo utilizzato. Come posso, partendo da un oggetto simile, andare a ridurre, oppure addirittura eliminare completamente il problema dei supporti, volendolo sempre stampare, naturalmente, in questa posizione, quindi non volendo cambiare la posizione di disegno. Andiamo a vedere. Allora, mettiamoci qui accanto. Andiamo a prendere il profilo esterno. Ok. Eccolo qua. Ok, il problema principale è questo angolo a 90 gradi. Bene, che è quello che poi, nella pratica, mi crea il problema. Ora, questo è un principio che non sempre è applicabile. È applicabile nel momento in cui piccole variazioni del disegno non creino particolari problemi. Ok? Qual è il problema? Cioè, in senso, qual è la soluzione? La soluzione è quella di andare a addolcire, in qualche modo, questo angolo a 90 gradi. E lo posso fare con varie forme, in vari modi. Allora, diciamo che la prima cosa che posso andare a fare, sempre utilizzando delle linee, è quella di crearmi una struttura che più o meno... Ok, ora l'ho fatta un po' curta. Andiamo a farla un pochino più in modo che arrivi un po' più vicino. Ok, quindi è una struttura che più o meno possa andare a intercettare più da vicino, mettiamola così, ok? La parte è alta. Naturalmente, qui ci sono delle superfici che possono essere stampate anche senza il bisogno dei supporti. Tutte le superfici a 45 gradi, le stampanti riescono ormai a gestirle tranquillamente. Anche se magari i software vi daranno il messaggio di attenzione, perché i software sono sempre molto, molto conservativi. Ok? Loro vogliono far sì che la stampa arrivi in fondo, anche mettendoci un po' di più, anche utilizzando un po' di materiale in più. In realtà, tutti i software riescono a gestire tranquillamente le superfici a 45 gradi. Bene, quindi, qui cosa ottengo? Ma se quello che voglio avere è la parte alta, ok? Qui con un po' di dispendio di materiale in più, però diciamo che riesco a ridurre notevolmente il numero dei supporti. Dov'è che serviranno comunque i supporti? In questa parte qua. In questa parte finale qui, sicuramente un po' dei supporti serviranno. C'è una soluzione per fare ancora meglio? Probabilmente sì. Quindi torniamo un attimo all'interno dello sketch. Andiamo a... Scusate. Ok. Andiamo a rimuovere quello che ho disegnato ora. Ok. La cosa più semplice, la cosa migliore da fare è quella di costruire, vediamo più o meno se mi riesce a farlo al volo, un arco. Ok? Eccolo qua. Quindi, che poi posso andare a sistemare, ok, in modo da... Ok. Qui ottengo un risultato simile, andando a costruire invece che un angolo a 90 gradi, un arco, in modo che l'oggetto via via che viene costruito ha sempre una base su cui appoggiarsi. E anche qui l'unico punto che mi può dare forse qualche problema è quest'ultimo pezzettino qua. Ok? Allora, facciamo una prova. Proviamo a dare una profondità al mio oggetto. Quindi andiamo a dare un'estrusione di 5 mm. Bene. Ok. Forse l'ho fatto anche poco. Diamogli un po' di più. Diamogli... Diamogli ne altri 10. Ecco. E a questo punto esportiamolo. Una cosa che forse l'altra volta non vi ho fatto vedere e mi è sfuggito, è come esportare un file da Fusion. Rimedio adesso. Allora, per esportare un file da Fusion bisogna andare nel menu File e non utilizzare il tasto Export, ma utilizzare il tasto 3D Print. Quindi cliccando su 3D Print il software vi chiede di scegliere qual è l'oggetto che volete esportare, in questo caso questo. E qual è il grado di definizione, va benissimo, medio. E se volete caricarlo direttamente all'interno di un software per il 3D. Noi in questo caso non mi interessa. Quindi vado a dirgli ok. E lo salvo. Lo salviamo come modello 7. Eccolo qua. Adesso andiamo ad aprirlo con Simplify 3D. Quindi ritorniamo su Simplify, rimuoviamo questo. E andiamo a importare modello 7. Eccolo qua il mio modello. Se vado a fare la stessa cosa che ho fatto prima, quindi a aggiungere i supporti, me ne mette un po' tanti perché siamo a 45 gradi, ma diciamo che si può giocare alzandolo almeno fino a 55. Bene, quindi riducendo notevolmente il numero di supporti che vengono costruiti rispetto a quelli che mi metteva con l'angolo a 90. Questo è un trucco, un'accortezza che, vi ripeto, non sempre è utilizzabile. Ci sono delle geometrie che purtroppo non sono modificabili. Però in alcuni casi può essere una scappatoia, può essere una scorciatoia. Naturalmente qui, andando a alzare ancora un po' l'oggetto e andando a fare questo arco ancora più ampio, probabilmente sarei riuscito a ridurli ulteriormente. Però tanto è giusto per avere l'idea. Altra cosa molto molto importante quando disegnate è scegliere bene gli spessori. Andiamo a rimuovere, questo lo leviamo e torniamo un attimo in modellazione. Se io, prendiamo l'altro, andiamo a estrudere l'altro. Se io esporto un oggetto che è spesso un millimetro, è vero che è tridimensionale, però mi potrebbe dare alcuni problemi. O ancora meno, è di un millimetro, diciamo, è... Facciamo... Vabbè, sotto il millimetro, perfetto. Questo è pur sempre un oggetto tridimensionale, ma è un oggetto che mi può dare un po' di problemi. Andiamo a fare la stessa cosa, andiamo a esportarlo. Quindi, vi ricordo, non è export, ma 3D print. Scelgo quest'altro. E andiamo a chiamarlo modello 8. Andiamo a vedere cosa succede nel momento in cui lo importo. Allora, me lo fa vedere naturalmente. Quando lo vado a stampare, me lo fa vedere. Però, considerate che questo spessore qui è veramente uno spessore minimo. Quindi, nel momento in cui voi lo andate a stampare, andate incontro a diversi problemi. Il primo è il problema di adesione alla base. Ok? Vedete che il vostro oggetto ha un'adesione veramente minima. Bene, quindi in questo caso si potrebbe risolvere con il raft, come vi ho fatto vedere prima. Un problema può essere se vado a cercare di mettere i supporti. Vedete che in automatico non riesce a generare i supporti, perché la superficie che deve appoggiare è troppo piccola. E quindi, semplicemente non ve li fa. Bene, è come se questa superficie il software non la vedesse. Naturalmente, con un oggetto come questo, stamparlo non è un grosso problema. Basta appoggiarlo sdraiato, in questo caso ancora meglio, che ruotato a 180 gradi. Quindi qui basta semplicemente appoggiarlo. Eccolo qua. E non ho nessun problema a stampare questo. Però considerate che lo spessore dei vostri oggetti è sempre un fattore importantissimo per la stampa. Considerate di esportare oggetti di almeno un millimetro. Meglio se un millimetro e mezzo o due. Perché altrimenti rischiate che siano veramente troppo sottili per essere stampati e più che altro che portino dei problemi di adesione tra i layer che quindi poi alla fine siano oggetti con una scarsa capacità meccanica e si rompono molto molto facilmente e quindi alla fine inutilizzabili. Altro esempio che vi volevo far vedere di costruzione è quando si costruiscono o incastri o, ma quello lo vediamo tra un minuto o quando all'interno dello stesso oggetto quindi immaginiamoci vi faccio sempre oggetti molto molto semplici per praticità quindi importiamo le misure, mi interessano relativamente andiamo a estrudere ancora un po' ok, perfetto e andiamo a costruire su questa superficie benissimo sto andando, scusatemi, a costruire un ponte ok ok eccolo qua allora ho costruito un oggetto che ha una base chiara bene ma al suo interno ha uno spazio vuoto ok, questi si chiamano bridge in stampa 3D ponti dove la difficoltà è sempre, sempre la solita questa superficie qui quindi se è molto lunga come in questo caso probabilmente non sarà andrà incontro al solito problema di prima quindi al solito problema del filo che cola quindi anche qui dentro io devo andare a prevedere dei supporti ok, altrimenti però questo bisogna fare un po' di prove stampa per stampa a capire qual è la lunghezza limite della vostra macchina ok, su questo influiscono diverse cose che ventola avete, in che posizione in che posizione si trova la ventola perché le ventole servono proprio a raffreddare molto molto velocemente il filamento quando ci sono questo tipo di strutture qui addirittura i software le riconoscono e accelerano il movimento della macchina in modo che il filo venga teso nel minor tempo possibile e quindi si cristallizzi quasi subito questo varia però da modello a modello alcune macchine questo lo fanno molto molto bene quindi permettono di costruire ponti più lunghi altre hanno qualche difficoltà e quindi colano il filamento colera prima e in quel caso o costruisco ponti più stretti magari per esempio intramezzandolo con un'altra superficie che lo intersechi ok banalmente andiamo a costruirgli qui nel mezzo ok un altro una sorta di supporto bene che poi una volta estruso eccolo mi va a accorciare i miei due punti bene questo varia un po' da modello a modello dovete fare qualche prova su questo però è un'altra di quelle cose che spesso mette in in crisi le stampanti ultima cosa che vi faccio vedere importantissima sono gli incastri e questo è un punto su cui prima o poi ci si batte la testa gli incastri in stampa 3d non che siano difficili però vanno pensati prima cioè l'incastro non può essere esatto ma deve avere un po' di gioco deve avere un offset bene ora vi faccio vedere come farlo ok vediamo come costruire un incastro allora costruire un incastro in realtà è abbastanza semplice io nel frattempo ho semplicemente fatto sparire gli oggetti in modo da avere il piano libero allora sempre con la solita procedura quindi andiamo a prendere un rettangolo che utilizzeremo come base per il mio primo solido lo vado a estrudere diciamo 30 mm eccolo qua all'interno di questo adesso io creerò una cavità un incavo e su cui poi disegneremo il nostro incastro allora la cosa più veloce da fare è quella di creare un foro con l'ostrumento hold quindi scegliere la superficie su cui voglio andare a creare questo ci clicco eccolo qua vedete me l'ha già fatto qui si può andare a variare la dimensione del mio incastro lo posso come sempre mettere manualmente diciamo voglio fare un foro da 60 e lui in automatico vedete ha fatto il foro passante al mio oggetto naturalmente qui posso scegliere anche regolare l'altezza a cui fare il foro quindi farlo o completamente passante o magari no quindi magari è un pezzo che deve deve semplicemente come dire appoggiarsi da un'altra parte ora in questo momento facciamolo passante perché si vede meglio eccolo qua do ok e ho creato il mio foro a questo punto quando vado a costruire nuovamente su questo piano qua io posso andare a prendere lo strumento cerchio scegliere il centro del mio foro qui vedete lui in automatico mi dice che il foro è 60 quindi semplicemente posso andare a scegliere qualcosa meno diciamo 50 dipende molto dalla macchina vi do un numero molto molto conservativo diciamo 58 quindi vi do addirittura 2 mm di spazio e poi come sempre vado a estruderlo diciamo che lo facciamo 50 così lo vediamo bene ok allora adesso che ho fatto il mio il mio solido posso andare a dirgli move copy scusate ok scusate avevo pigiato un paio di cose che non dovevo pigiare move copy eccolo qua quindi vi fa vedere il movimento all'interno del mio ingombro del mio incavo scusatemi e avvicinandosi si vede che c'è aria questa è la cosa un po' più importante cioè deve esserci sempre un minimo di aria tra l'alloggiamento e il perno che deve entrare all'interno questo perché la stampa 3D non sempre è precisissima quindi considerate che l'incavo verrà un pochino più stretto l'incastro verrà un pochino più largo quindi se questa tolleranza non è abbastanza ampia rischiate che poi i due oggetti non combascino e che semplicemente non si incastrino questo vi dico per esperienza è la cosa più difficile cioè non sempre si riesce a farlo al primo colpo ok perché magari ho dato troppo offset e quindi gli oggetti ballano uno dentro l'altro ne ho date troppo pochi e quindi non entrano questi si migliora e si arriva a avere una buona padronanza di come disegnare un incastro solo conoscendo bene la stampante quindi bisogna cominciare a fare un po' di prove magari sullo stesso oggetto io potrei fare come esercizio posso andare a fare quindi uno due tre quattro cinque fori e a ogni foro mettere un un incastro con un offset diverso quindi partire da un millimetro un millimetro e mezzo due millimetri di offset e così via in questo modo con una sola stampa riesco a testarne il più possibile ok ok allora queste diciamo che sono le indicazioni principali sulla modellazione e stampa 3D vi volevo far vedere velocemente un paio cura giusto perché magari alcuni di voi lo utilizzano è solo per farvi vedere dove sono le funzioni principali che vi ho fatto vedere da simplify come per esempio il raft apro subito cura e ve lo faccio vedere bene allora apriamo cura andiamo a vedere queste impostazioni eccolo qua questo è l'ambiente di cura come vedete è abbastanza simile a quello che vi ho fatto vedere io anche qui abbiamo il cubo il cubo di stampa con una variazione qui il cubo utile è solo quello più chiaro quindi la cornice questa scura non è non è utilizzabile è l'ingombro dell'estrusore per cui andiamo a importare un oggetto lo importo da qui ok prendiamo come sempre il nostro primo modello adesso sarà un po' troppo grande quindi vado a scalarlo diciamo al 30% e poi me lo faccio eccolo lo posiziono al centro del piano bene vedete è giallo quindi vuol dire che è stampabile mi da subito il tempo di stampa circa 20 minuti mi dice adesso se voglio andare a vedere il preview eccolo qua vedete che in automatico lui ha già messo una superficie di adesione che è proprio il raft ok qui se volete andare a vederlo lo trovate all'interno di questo menu a tendina build plate adesione eccolo qua raft quindi posso scegliere nessuna superficie di adesione in questo caso eccolo qua vedete me lo fa direttamente sul piano di stampa altrimenti posso andare a scegliere il mio raft questo questo era un po' la differenza in alternativa abbiamo anche il menu supporti quindi qui posso dare la spunta e come vedete lui in automatico mi ha già generato il nuovo percorso file dove il raft è molto più ampio e dove ci sono tutte le superfici di supporto che serviranno per appoggiare il mio oggetto come vedete la geometria è diversa rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima ma lì dipende un po' da programma a programma ognuno fa i suoi calcoli quindi ognuno poi alla fine sceglie le sue geometrie ok bene con questo si conclude il nostro webinar di oggi e si conclude anche il ciclo dedicato alla modellazione 3D spero possa essere stato sufficientemente chiaro e spero vi possa aver dato degli spunti da cui partire o comunque insomma qualche idea in più mettiamola così io come sempre rimango a disposizione mi potete scrivere o direttamente alla mia email che è ubaldo.betocchi chiocciolapaleos.it oppure alla più generica info chiocciolapaleos.it e poi mi girano i contatti vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ai prossimi webinar a tutti arrivederci